Buongiorno a tutti, mi è stato chiesto dalla... ...dai provare... ...giusto per... ...sconfiggere questo periodo di quarantena... ...a fare un uscivo di l'ero... ...di... ...non cancellarlo... ...cioè... ...ma devo finire così in maniera... ...giusto per farci quattro risette... ...quindi preparateli... ...quad avanti... ...invece non lo so che resta a cercare... ...un possibile... ...questa arriva direttamente al Milanese... ...in Milanese... ...tic tac tic tac... ...tac mi tacc mi... ...tic tac tic tac tic tac... ...tac tic tac tic tac... ...ho tipo sbagliato tutto... ...però va bene così... ...grazie... ...e ricordatevi sempre... ...state a casa... ...buon divertimento... ...ciao a tutti...